Rumore di macchine da cucire di un'azienda viva che prospera eppure 20 anni fa in azione nella stanza di una casa c'era una sola macchina per cucire di una commessa per cento borse. Nasce così nel maggio del 2004 la cooperativa New Hope, nuova speranza per donne vittime di tratta provate dalla vita. New Hope è una gemmazione di casa Ruth che fu fondata a Caserta nel 1995 da sorrita giarretta per dare un tetto e speranza a chi ne era stata privata. La consapevolezza era che solo il lavoro, l'autonomia economica poteva realmente rendere libere da ogni forma di schiavitù donne che in alcuni casi erano letteralmente in questa condizione. Nel suo ventennale New Hope è una speranza viva che da vita e speranza Pietro Ravallese di Filiderba è andato a Caserta dove ha incontrato Daniele Altruda. A Casarut esiste ancora e ci sono donne vittime di tratta che vengono diciamo adescate col sogno di un lavoro in Europa e poi vengono portate qui e si trovano invece in realtà catastrofiche. Noi abbiamo avuto anche una ragazza che ha avuto la forza di raccontare il suo percorso, infatti questo è il libro Io sono Joy, che esorto tutti a leggere questo libro perché veramente cambia proprio il modo di vedere tutta la tratta, tutta l'immigrazione. Queste ragazze vengono contattate da alcune persone dicendo che qui c'è un lavoro per loro, poi si trovano ad affrontare l'orrore del viaggio perché già il viaggio in sé è un orrore e poi quando vengono qui e raggiungono l'Italia si trovano poi vittima di schiavitù. E Casarut a Caserta è una risposta anche a questo. Perché lì praticamente le ragazze possono bussare, trovare accoglienza e poter veramente cambiare la loro vita. Viene fatto un percorso sanitario, un percorso per i documenti, sono donne che non sanno neanche parlare la lingua italiana quindi si trovano veramente fuori dal mondo qui senza nessun riferimento e grazie all'esore insomma riescono a trovare questo percorso. Noi qui in cooperativa andiamo nel secondo step che è il percorso lavorativo, quindi proprio di integrazione. Facciamo laboratori sia per imparare la lingua, sia per imparare a stare con gli altri, imparare un pochino va le regole del lavoro se così possiamo dire. Quindi le ragazze che passano da Casarut vengono poi da noi per integrarsi nella società. Però ci sono anche ragazze, persone italiane... Sì, oggi la cooperativa è un cammino di donne insieme, sapendo che insieme si possono scardinare tanti presupposti, tante violenze, tante ghettizzazioni, tra virgolette. Oggi la cooperativa, infatti questo è il nostro simbolo, ti faccio vedere. Non c'è scarto che non possa fiorire. Questo viene fatto con i scarti di stoffa, quindi nulla viene buttato via, viene fatto a mano e questo vale anche per la vita delle persone, che dopo i periodi bui, periodi di tristezza, insomma c'è sempre una luce ed una speranza. E questo lo portiamo avanti tramite la sartoria, quindi è bello creare anche dei manufatti, tutti fatti a mano, ed è stata fatta la scelta di utilizzare tessuti africani, proprio perché all'inizio le ragazze avevano modo di ritrovarsi e di rivedersi in questi tessuti wax, che nel loro paese ogni tessuto racconta una storia, oppure identificato ad un luogo, e quindi per farle sentire un po' a casa. E oggi portiamo avanti questo progetto, siamo nove donne, abbiamo il 30% dell'inclusività, anche ragazze con disabilità, che per loro venire qui è un modo anche per uscire fuori da casa, perché spesso i genitori dicono che i loro figli non sanno cosa fare, mancano le strutture, mancano i progetti per loro, e quindi venire qua e condividere qualcosa insieme ad altre donne, portando avanti un progetto tramite lavoro, insomma penso che sia il nostro sogno quello di crescere per poter dare spazio anche ad altre donne. Anche nella tua storia personale c'è stata la scelta di lasciare un altro lavoro. Certo. Che facevi prima? Io ero responsabile marketing in una società di pubblicità, e facevo il mio lavoro, insomma con la mia serenità e tranquillità. Poi un giorno ho conosciuto le ragazze tramite un progetto, la Bionnow di Roma affiancava le ragazze una figura professionale per farle crescere proprio a livello di imprenditoria sociale, e ho conosciuto loro, me ne sono innamorata, e da lì poi mi sono licenziata dove lavoravo, adesso porto avanti con loro, condividiamo proprio questo progetto, tutte insieme di dignità e di lavoro. Grazie a tutti.